Ciao amici di Alberà, ho ordinato il nuovo decespugliatore ed è arrivato. Quindi quest'oggi facciamo un unboxing con voi. Scegliamo tutti i pezzi. Siamo a primavera, le erbe infestanti aumentano e c'è bisogno di attrezzatura corretta. Anche se il mio vecchio decespugliatore era una bomba, ho ordinato questo nuovo decespugliatore perché è progettato meglio. Questo decespugliatore è spalleggiato, quindi il carico, il peso viene direttamente sulle spalle attraverso un seggiolino. Il motore è potente, è un motore a 4 tempi da 2 cavalli, che mi permette di agganciare a questo decespugliatore tutte le attrezzature e tutti gli accessori. Inoltre la coppia conica e l'albero di trasmissione, eccoli qua, ci siamo. Sono uno spettacolo, un materiale che non vi sto a dire, sono molto professionali. Eccolo qui. Decespugliatore spalleggiato, 4 tempi. Ho deciso di comprare questa macchina perché ragiono in termini di efficienza. Questa macchina mi permette di ottimizzare il tempo. Ha dei consumi molto ridotti rispetto al 2 tempi. Non devo fare la miscela, quindi non mi fa perdere tempo ogni volta a preparare la miscela. Ha delle vibrazioni ridotte e anche per quanto riguarda l'ambiente è molto meno inquinante di un classico decespugliatore a 2 tempi. Essendo spalleggiato mi permette di poter lavorare per ore, senza stancarmi, senza distruggermi le braccia. E quindi è adatto a un uso professionale, quello di cui mi occupo io. È adatto a un uso prolungato. Questa è una macchina importante. Ha un motore a 4 tempi da 2 cavalli. Quindi è possibile attaccarci qualsiasi tipo di attrezzatura. Ci possiamo mettere sia il tagliasiepi, ci possiamo mettere il potatore, l'asta telescopica. Ci possiamo mettere le spazzole per lucidare. Ci possiamo mettere i dischi al vidia. Oppure il classico filo per tagliare l'erba. La barra è molto resistente, allo stesso tempo è molto leggera. Io utilizzando un decespugliatore spalleggiato, come questo, posso lavorare per molte ore senza stancarmi. E quindi ragioniamo in termini di efficienza. Sono molto contento e volevo condividere questa gioia con voi. Non vedo l'ora di metterlo in funzione. Non pubblicizzo questa macchina. Sto semplicemente condividendo con voi una gioia per aver ricevuto un nuovo tipo di attrezzo molto professionale e molto buono. Io adesso lo monto e poi nei prossimi video vi mostrerò l'utilità di questo tipo di decespugliatore. Se vi è piaciuto il video, lo avete trovato utile, se avete domande io vi lascio i commenti aperti, scrivetemi. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica, noi torneremo presto con nuovi video. Un saluto, un abbraccio di cuore.